Billy, adesso che facciamo? Gli dimostriamo che finalmente ha trovato pane per i suoi denti. Cosa? Ehi, Peppin! Vicenzo, Billy! Ho visto che hai Johnny Crawford lì con sé, eh? Sì, ne abbiamo parecchi come il mio... Ehi, Peppin! Johnny Crawford adesso lì con te non ci sto più! Bastardo! Fuoco!